Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti ti invocano, soccorri, crisi. Tutti ti invocano, soccorri, crisi. Tutti ti invocano, soccorri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. O Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. E cosa mostrarti con l'alma mia, Madre del Miseri, Santa Maria. Madre del Miseri, Santa Maria. Madre del Miseri, prega per me. 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 Madre del Miseri, prega per me.